La differenza come valore e il valore della differenza è stato il tema di un convegno svoltosi sabato sera a Pestum, promosso dalle banche di credito cooperativo di Aquara e di Roscigno. Un incontro che ha coniugato l'utile e il dilettevole, nel corso del quale è stato dato via ad un confronto molto costruttivo su temi di carattere economico e finanziario, prima di passare ad una cena regale alla quale hanno partecipato tutti i dipendenti dei due istituti di credito. Presenti all'incontro moderato da Rocco Colombo, il presidente della BCC di Aquara Luigi Scorziello, il vicepresidente della BCC di Roscigno e Laurino Antonio Ciniello, i due direttori Michele Albanese e Antonio Marino, il direttore della Federazione Campana delle Banche di Credito Cooperativo Franco Vildacci e il professore Tullio Mulas, consulente della Società di Formazione delle Banche di Credito Cooperativo. E nel corso dell'incontro è stato lanciato un importante segnale che potrebbe portare addirittura alla fusione tra le banche di Aquara e Roscigno.